E la dichiarazione d'amore a Stefano De Martino nelle ultime ore ha dato modo ai suoi 9 milioni di follower di vederla mentre si impegna a fare degli esercizi fisici? La sobretta argentina, libera da impegni professionali, al momento si sta dedicando al figlio Santiago e al marito Stefano De Martino. E proprio al ballerino napoletano qualche giorno fa ha postato uno scatto che li ritrae insieme con tanto di dichiarazione d'amore nella didascalia. I due, dopo una separazione durata ben 4 anni, dalla scorsa primavera sono inseparabili, infatti spesso condividono anche il lavoro. La notte della Taranta e Castrocaro ne sono un esempio. Gli esercizi fisici della Rodriguez documentati su IG ma tornando agli allenamenti, sta seguendo alla lettera le indicazioni della sua personal trainer, ovvero la affascinante e bravissima Yolana Dunica. La 30N, originaria di Bucarest, fa rispettare alla modella argentina una rigorosa tabella di marcia. Naturalmente la madre di Santiago ha documentato il tutto attraverso delle stories condivise su IG. In queste clip la compagna di Stefano De Martino ha dato anche alcuni consigli a chi volesse rimettersi in forma fisico dopo le vacanze natalizie. Oltre ai video, la showgirl ha scritto cosa e come fare per dimagrire qualche chiletto in eccesso. Esce di seno a quanto pare non ha paura del freddo. Infatti, grazie alle sue foto bollenti condivise sui social, la modella fa alzare la temperatura. Di recente su Instagram è stato condiviso uno scatto in cui l'Argentina si vede vedere in bichini con loro carne. Ma essendo molto striminzito, il suo decolte fa fatica a rimanervi dentro, infatti è uscia di sé. La conduttrice di Tussico a Vale, Stefano De Martino e il loro figlioletto Santiago hanno trascorso le vacanze natalizie nel meraviglioso scenario di St. Norris. Naturalmente in montagna le temperature erano rigide ma a riscaldarla ci hanno pensato le braccia del suo amato. Ecco l'immagine in questione.